Buongiorno, un saluto a tutti i nostri telespettatori, benvenuti al nostro telegiornale che apriamo con una vicenda che abbiamo seguito per tanti anni, ma ora si spegne la speranza in maniera definitiva per i coniugi di Mirabello Monferrato da anni in lotta per riavere la loro bambina. Il caso è tornato per la terza volta in Cassazione dove i giudici hanno sentenziato che la piccola ora è adottabile. Tutti i particolari nel servizio su questa vicenda da parte di Chetti Porcedu che ha ripercorso questa storia che ha commosso l'Italia intera. Grazie a tutti. Quali siano i bisogni emotivi effettivi e pratici della bimba, risultando il padre totalmente dipendente dai desideri della moglie, che secondo gli ermellini è una donna chiusa in un processo narcisistico. Una vicenda straziante che ha commosso l'Italia intera, animata da carte giudiziarie, da ricorsi e contro ricorsi, richiesti e verdetti che si trascina dal 1990, quando i coniugi di Ambrosis cercavano disperatamente di avere un figlio. Dopo il no di mamma natura ci avevano provato con un'adozione nazionale per la quale avevano ottenuto una bocciatura e poi con quella internazionale, ma anche qui avevano dovuto desistere. Nel 2010 la coppia decisa per la fecondazione eterologa, all'epoca vietata nel nostro paese. I due andarono all'estero e da quell'operazione nacque finalmente la loro bambina. Una gioia incontenibile spezzata solo qualche mese dopo, quando di Ambrosis, che stava sistemando la spesa in garage, fu denunciato da alcuni vicini per aver lasciato sola la bambina in auto davanti a casa. Scarsa capacità di gestione della minore, sia dal punto di vista affettivo che pratico, sentenziarono allora le perizie psichiatriche, a fronte delle quali il tribunale tolse ai coniugi la bambina, affidandola a un'altra famiglia. I genitori nonni allora avanzarono un ricorso alla stessa Cassazione, che nel 2013 la dichiarò adottabile, in quanto i due erano troppo anziani e sbattati per poterla cudire, decise, ribaltando la sentenza, che la legge non prevede limiti di età per chi intende generare un figlio. Una storia che poteva avere un lieto fine per i due casalesi, se non fosse per la Corte d'Appello di Torino, che nel luglio scorso si espresse nuovamente per l'adottabilità. Da qui la decisione per l'avvocato Adriana Boscagli di Roma di tentare l'ultima carta, riportando per la terza volta il caso in Cassazione. I giudici questa volta hanno sottolineato che padre e madre, pur non avendo caratteristiche di emarginazione sociale, culturale ed economica, eppur avendo collaborato con i servizi sociali, hanno riportato valutazioni tecniche univocamente negative in ordine all'idoneità genitoriale. Una nuova dolorosissima doccia fredda per questa coppia, che altro non desidera che stringere fra le proprie braccia la sua bambina, oggi di quasi otto anni, e della quale non le rimane altro che un pugno di fotografie scattate prima che la felicità si frantumasse in mille pezzi, lasciando desolatamente vuota quella stanzetta dove avrebbe dovuto crescere un amore desiderato da anni. E c'è un'altra storia che riguarda il mondo dell'infanzia a Torino, infatti è morta nei giorni scorsi la piccola Beatrice, conosciuta come la bambina di Pietra, per una rarissima malattia che aveva trasformato il suo corpicino in un'armatura rigida. Bea era stata portata d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per un improvviso arresto cardiorespiratorio. Il suo quadro clinico è subito apparso gravissimo e a nulla sono valsi i tentativi dei medici per salvarla. A dare il triste annuncio su Facebook è stata la zia che sulla pagina Il Mondo di Bea, creata proprio per sensibilizzare e sostenere la ricerca riguardo alle malattie rare, ieri aveva scritto Questa sera Beatrice è volata via, ha deciso di correre ad abbracciare la sua mamma, saperla insieme sarà la nostra forza. Il Mondo di Bea resta in assoluto il miglior posto che io abbia mai potuto visitare per sempre. Lo scorso 6 agosto infatti era morta anche la mamma della bambina, Stefania Fiorentino, stroncata a 35 anni da un tumore. Ci spostiamo sulla cronaca perché sono stati decisi 4 anni e mezzo di reclusione. Li ha proposti il PM Riccardo Ghio nel processo per Luciano Vandone, l'ex assessore comunale alle finanze, accusato di truffa, abuso d'ufficio e falso ideologico. Il servizio è di Emma Camagna. È lui il principale artefice di tutto, l'architetto delle operazioni finanziarie compiute per alterare il bilancio consuntivo 2010 del comune di Alessandria e attestare, contrariamente al vero, il raggiungimento del rispetto del patto di stabilità. A dirlo Riccardo Ghio, pubblico ministero al processo in tribunale a carico del professor Luciano Vandone, già assessore comunale alle finanze, accusato di falso ideologico, truffa e abuso d'ufficio. Per l'imputato, che era assente, il magistrato ha proposto la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione, come responsabile di tutti i tre i reati. Erano stati contestati anche all'ex sindaco Pier Carlo Fabio e all'ex capo contabile Carlo Alberto Ravazzano, che invece sono stati condannati, e la pena è divenuta definitiva, solo per falso ideologico, rispettivamente a 3 anni e mezzo e 2 anni e mezzo. Ghio è stato molto duro nei confronti di Vandone, non ha fatto sconti al suo operato, ha sostenuto che il bilancio era palesemente falso e ha detto che anche i revisori dei conti, pur avendo concesso parere favorevole, avevano dato precise disposizioni perché si procedesse su ben precisi e determinati binari. Si torna in aula il 7 marzo per le arrinche dei legali di parte civile e dei difensori, la sentenza in una data successiva. Vandone viene processato separatamente perché per i suoi problemi di salute il dibattimento a suo carico era stato bloccato. E arrivano brutte notizie per le province del Piemonte che riceveranno soltanto 23 dei 400 milioni stanziati dal governo. Di questi 4,3 vanno al territorio di Alessandria. La nostra provincia, ha sottolineato il presidente Gianfranco Baldi, si trova dal punto di vista economico e di bilancio in grande difficoltà. Le province non possono vivere di espedienti e non avere le risorse per le funzioni a cui sono ancora preposte strade, scuole, parliamo di servizi fondamentali, ha detto. Questa ultima ripartizione, la goccia che fa traboccare il vaso, ha poi accusato ci sono realtà che hanno 10 volte in meno i nostri abitanti o chilometri di strade e riceveranno molte più risorse di quelle assegnate al nostro territorio. Stesso commento anche per il presidente della provincia di Asti, il governo, non mettendo a disposizione i soldi sufficienti per svolgere le funzioni essenziali perché questi dati sono stati elaborati dal Ministero delle Finanze e non dall'Unione delle Provincie, sta mettendo in ginocchio l'80% dei nostri enti. Ha invece commentato il presidente della provincia di Asti, Marco Gabusi. Andiamo avanti, torniamo a occuparci ora di violenza di genere, dell'iniziativa della Polizia di Stato che sta facendo il giro delle piazze d'Italia. alla campagna di comunicazione sociale si chiama Questo non è amore e ce lo racconta Alessandra Della Ca. Ha fatto tappa anche ad Alessandria il camper della campagna di sensibilizzazione Questo non è amore, promossa dalla Polizia di Stato. L'iniziativa, che ha lo scopo di contrastare la violenza di genere e che ha toccato più piazze d'Italia nella giornata di ieri, stamane è arrivata pure in piazza Garibaldi. Personale specializzato della Polizia di Stato ha accolto coloro che hanno voluto ricevere informazioni e o denunciare in ambiente protetto episodi di violenza. Accanto al personale della squadra mobile, della divisione anticrimine e dell'ufficio denunce, c'erano inoltre una rappresentante del locale centro antiviolenza Medea e delle referenti del Consorzio Servizi Sociali Cissaca. La campagna di comunicazione invita le donne a fare la scelta giusta nel momento in cui si sentano vittime di persecuzioni fisiche e mentali. Perché, come ribadito anche dallo spot della Polizia, le donne devono decidere di non restare sole e non vergognarsi di chiedere aiuto. Ogni tre giorni e mezzo avviene in media l'omicidio di una donna in ambito familiare o comunque affettivo, mentre ogni giorno, sempre ai danni del gentil sesso, si registrano 23 atti persecutori, 28 maltrattamenti, 16 episodi di percosse, 9 di violenze sessuali. Numeri che risuonano in modo cupo, numeri che vanno combattuti. Camper, ma anche gazebo informativi e altri momenti di incontro sono il veicolo offerto da un'equip di operatori specializzati, in prevalenza composta da donne e formata da personale di polizia, da medici, psicologi e rappresentanti dei centri antiviolenza. L'importanza della Polizia di Stato è fondamentale su questo argomento, perché noi lo trattiamo da un duplice punto di vista, sia sotto quello della prevenzione, sia sotto quello della repressione dei reati. È un reato orribile per quanto mi riguarda, e abbiamo scelto proprio questa occasione, perché il giorno dopo San Valentino, in un posto così affollato come può essere il mercato, riteniamo che qualcuno possa essere interessato alla nostra presenza qui. Ma ripeto, noi comunque lo facciamo 365 giorni all'anno, questo è solo un momento di ulteriore visibilità. Cambiamo ora argomento, battitore d'eccezione per l'asta benefica in favore di Medea, l'associazione che tutela le donne vittime di violenza. Vendute immagini fotografiche che hanno partecipato al Festival Nazionale della Fotografia di Alessandria, la manifestazione si è svolta a Palazzo Consani. Per noi c'era Emma Camagna. La verva, l'entusiasmo, la competenza sulle tecniche fotografiche del battitore d'eccezione, l'avvocato Alessandrino Vittorio Gatti, hanno contribuito al successo dell'asta che il Sorottimi si è organizzato a scopo benefico a Palazzo Consani. Il ricavato è stato infatti devoluto all'associazione cittadina Medea, che aiuta le donne vittime di violenza, e purtroppo non sono poche, a ritrovare la dignità che meritano e la libertà che cercano. All'asta sono stati battuti 17 quadri riproducenti altrettante fotografie esposte di recente al Festival Nazionale della Fotografia, svoltosi ad Alessandria su iniziativa dell'Associazione Bianco. Ed è questa associazione che le ha donate al Club Cittadino. È stata una serata piacevole, molti gli intervenuti, tutte le opere, grazie anche all'abilità del battitore, sono state acquistate. Sei erano state realizzate da altrettanti Alessandrini, Ugo Galassi, Davide Riva, Marina Mangini, Elena Zanotti, Carlo Ferrara e Fabio Ceconello. E ora ci spostiamo in Consiglio Comunale perché i provvedimenti shock della no tax area studiata per incentivare le attività economiche ad Alessandria sono stati presentati in commissione ieri e saranno già votati stasera in Consiglio Comunale. La minoranza ha però protestato con forza perché non c'è stato tempo per analizzare e quindi si prepara a dare battaglia nel Consiglio Comunale che si riunisce questa sera. Ma guardare bene anche gli altri argomenti all'ordine del giorno e in discussione, quello di stasera sarà un Consiglio Comunale che possiamo definire difficile. Ci racconta tutto De De Vinci. Stasera si preannuncia un Consiglio Comunale molto caldo ad Alessandria. Alcuni degli argomenti previsti nell'ordine del giorno sono causa di discussioni e polemiche già da anni. Ad esempio il futuro della piscina comunale scoperta di lungo Tanner a San Martino che dopo anni di gloriosa attività è rimasta chiusa l'estate scorsa. All'ordine del giorno c'è anche la sicurezza sul ponte Cittadella o Meyer, che dir si voglia, e il ponte d'accesso alla Cittadella che se non verrà messo in sicurezza limiterà l'uso della fortezza perché è stato dichiarato non percorribile da mezzi che superano un certo peso. E poi sempre per la Cittadella si analizzeranno le proposte per il suo utilizzo temporaneo e anche continuativo. Non mancherà il tema più metanaro e la sicurezza idrogeologica, ma l'argomento del giorno che è entrato subito al primo posto nella classifica dei motivi di scontro tra maggioranza e minoranza sarà la famosa no tax area, di cui si parla da tempo ma che solo ieri è arrivata in commissione per essere presentata ai vari gruppi politici che compongono il panorama politico locale. Si tratta di due provvedimenti definiti shock, studiati per favorire l'insediamento di attività economiche nei negozi sfitti da almeno tre mesi e che per tre anni saranno esentati dal pagare le tasse. La minoranza ha protestato perché vede un interesse pre-elettorale nella presentazione avvenuta solo ieri e in tutta fretta già votata per oggi. La maggioranza replica che l'interesse pre-elettorale sta in chi tenta di fermarla perché non vuole si approvi a ridosso delle elezioni. Ieri nella commissione congiunta sviluppo del territorio e affari istituzionali ci sono già state scintille e si prevede che stasera riscalderà gli animi di tutti in Consiglio Comunale. Consiglio Comunale di Tortona invece che sabato 17 febbraio conferirà la cittadinanza onoraria a Suor Maria Amvel Spagnuolo, superiore generale delle piccole suore missionarie della Carità. Si tratta della prima benemerenza del genere che viene attribuita dall'attuale amministrazione che conferma e consolida il legame tra la città e la grande famiglia orionina che nelle sue varie articolazioni offre un generoso servizio a favore dei più deboli proseguendo l'opera avviata dal San Luigi Orione che in varie forme collabora con le istituzioni e le realtà locali per la promozione del bene comune. In particolare si è inteso rendere omaggio, fanno sapere dall'amministrazione comunale ad un'importante figura femminile che riveste il ruolo di superiore a generale per il suo impegno personale e per opera di tutte le piccole suore missionarie della Carità che rappresenta. Ora i tre minuti con i Trilli, una storia genovese. Il titolo di uno spettacolo che avrà luogo sabato 24 febbraio presso il Teatro San Michele ad Alessandria per ricordare il celebre gruppo genovese. Se ne è occupato, come detto, Maurizio Silvestri nei sui tre minuti con... Allora ragazzi questi tre minuti li dedichiamo qua nel nostro studio. Tre minuti però importanti perché sono con un grande, un grande della canzone genovese. Sono con Vladi dei Trilli, eccolo qua. Buongiorno, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sono contento che sei venuto qua nel nostro studio per annunciare una cosa molto importante. Ho visto che ti sei portato anche un compositore, musicista. Lui è Fabio Bavastro, componente anche del gruppo, figlio di uno storico musicista di Papai di Pucci. E qui diciamo che abbiamo gli eredi dei Pucci dei Trilli, ma con grande onore ve li presento perché hai organizzato una bellissima serata, raccontaci un po'. Sì, allora, questa serata che portiamo il giorno 24, quindi sabato 24 di questo mese, a San Michele, nel teatro della parrocchia. E abbiamo deciso di portare questo spettacolo che racconta la storia di Papai di Pucci dall'origine, cioè dal 1973 quando si unirono in questo strepitoso connubio. Quindi Pucci Parola è un documentario dal vivo, della storia di tuo papà insieme a questo gruppo che è iniziato da niente, da nulla per divertirsi, poi ha avuto un successo, diciamo, internazionale, no? Eh beh, sicuramente, perché con tanti dei loro brani sono arrivati anche a tutti coloro che sono emigrati, quindi i genovesi nel mondo. Io ce l'ho davanti, pomeriggio a Maracchese. Ah, beh, in Sanremo, 1984, un'altra storica tappa. E in questo spettacolo, appunto, guarda, tra un brano e l'altro, rigorosamente del repertorio di Papai di Pucci, dove quindi non metteremo nulla di quello che è, diciamo, il nuovo progetto, qua è proprio uno spettacolo dedicato a loro, dove si parlerà, per l'appunto, della loro storia, intervallata appunto dei loro brani. Certo, io sono affezionatissimo, lo sai, a loro, anche perché durante le mie serate la canzone classica, io la uso un po' come portabandiera, è la classica. Quale sarà? Quale sarà? Vai, ma questo? Aspetta, facciamo, facciamola. Ragazzi. Ragazzi. E qua tutti quanti insieme. Beh, tu devi sapere che questa canzone la cantano tutti, grandi, piccoli, giovani, è bello così. È sempre un cavallo di battaglia. Diamo il titolo al tuo progetto? Sì, non poteva essere diverso, una storia genovese, i Trilli. I Trilli, avrà anche degli ospiti, quindi si parlerà di questo, perché poi è nato il duo, di questo duo fantastico che ha fatto divertire tantissimo, perché non solo, io me li ricordo, gli spettacoli non solo erano canzoni, ma erano anche storie, proprio del vecchio Ligure, di quello che combinava, vero? Sì, sono stati molto bravi e attenti nel coniugare, diciamo, la malinconia che appartiene un po', diciamo, a noi genovesi, ma con la poesia anche in una chiave allegra, voglio dire, quindi, cioè, malinconia ma anche tanta allegria. Ciao ragazzi, ci vediamo ai prossimi tre minuti. Ciao. E di ricordarvi di non perdervi questa sera alle ore 21.15, Grigi nel cuore, canale 111 Telecity 1 del Digitale Terrestre, perché ci sarà ospite il centrocampista dell'Alessandria, Alessandro Gazzi, vi lascio la pagina sportiva dove parleremo dell'impresa di ieri sera, dei grigi che battendo 1-0 in Renate hanno ottenuto la semifinale di Coppa Italia di Serie C, dopo non perdetevi il nostro meteo. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.